Diritto civile, video lezione numero 50, aggiornamenti alla riforma cartabbia del 2023, parte 1. La riforma cartabbia, entrata in vigore nel 2023, è una riforma del sistema giudiziario che ha avuto importanti ripercussioni anche sul diritto civile. In questa lezione, oltre che ad illustrare gli aggiornamenti, riprenderemo alcuni concetti che abbiamo già visto in precedenza per renderli più armonici alla luce delle modifiche introdotte dalla riforma. Quindi, se siete pronti ad approfondire la vostra conoscenza del diritto civile della riforma cartabbia, iniziamo la lezione. Argomenti trattati, le figure di incapacità parziale di agire e gli istituti di protezione degli incapaci. Le figure di incapacità parziale di agire. L'emancipazione del minore per il matrimonio si ha allorquando abbia contratto matrimonio prima degli anni 18. Gli effetti della emancipazione sono la cessazione della responsabilità genitoriale. In particolare, sull'emancipato cessa la potestà parentale e viene sottoposto a curatela, cioè all'assistenza per taluni atti di un curatore. E altro effetto è l'acquisto di una limitata capacità di agire circoscritta dalla legge agli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione. L'articolo 397 del codice civile, così come riformato dalla riforma cartabbia, prevede che il minore emancipato può esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore se è autorizzato dal giudice tutelare, sentito il curatore. L'autorizzazione però può essere revocata dal giudice tutelare su istanza del curatore o d'ufficio sentito il minore emancipato. Il minore emancipato, che è autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale, può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione anche se estranei all'esercizio dell'impresa. Altra figura di incapacità parziale di agire è l'inabilitazione. L'inabilitazione pone il soggetto in una condizione di parziale incapacità, la stessa in cui versa il minore emancipato. Si ha, ad esempio, nei casi di infermità abituale e attuale di mente non grave o in alcune imperfezioni o menomazioni fisiche come la sordità o la cecità dalla nascita, eccetera. A differenza dell'interdetto, l'inabilitato conserva una cosiddetta capacità legale limitata. L'inabilitato, infatti, può compiere da solo gli atti di ordinare amministrazione. L'inabilitato ha altresì la capacità di compiere gli atti personali, quali per esempio il matrimonio e riconoscimento del figlio. Per quanto riguarda, invece, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sono necessari l'autorizzazione del giudice tutelare e il consenso del curatore. Ai sensi dell'articolo 425 del Codice Civile, così come riformato dalla legge cartabbia, l'inabilitato può proseguire l'esercizio di un'impresa commerciale soltanto se autorizzato dal giudice tutelare. L'autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un istitore. Gli atti, eventualmente compiuti senza l'osservanza delle formalità prescritte, sono annullabili su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa. Gli istituti di protezione degli incapaci. La responsabilità genitoriale. Il Decreto legislativo 154 del 2013, di attuazione della riforma della filiazione, ha modificato l'articolo 316 sostituendo alla potestà dei genitori il concetto di responsabilità genitoriale che incombe su entrambi i genitori, a meno che il figlio sia stato riconosciuto da uno solo. L'espressione responsabilità genitoriale è quella che meglio definisce i contenuti dell'impegno genitoriale, non più da considerare come una potestà sul figlio minore ma come un'assunzione di responsabilità da parte dei genitori nei confronti del figlio. L'articolo 316,1 del Codice Civile richiede ai genitori di esercitare la responsabilità genitoriale di comune accordo e sempre di comune accordo di scegliere la residenza abituale del figlio minore e adottare le scelte relative alla sua istruzione ed educazione. Questo articolo, l'articolo 316, è stato modificato dalla riforma cartabbia. In particolare, l'articolo 316 prevede che le scelte relative all'istruzione e l'educazione rientrano fra le questioni su cui i coniugi devono necessariamente e quindi previamente concordare. Se tale accordo dovesse venire meno, il comma 2 dell'articolo 316 conferma la possibilità per i genitori di rivolgersi al giudice senza formalità. In particolare, ogni coniuge potrà adire il giudice al fine di ottenere il provvedimento più adeguato all'interesse del minore, qualora sorga un contrasto su questioni di particolare importanza, fra cui quelle relative alla residenza abituale del minore all'istituto scolastico, ad esempio. In tal caso, il tribunale sentirà i genitori, il figlio se maggiore degli anni 12 o anche minore ove capace di discernere. A seguito dell'ascolto, il giudice tenta di raggiungere una soluzione concordata e ove questa non sia possibile, adotta le determinazioni utili a realizzare l'interesse del minore. In caso di affidamento del minore a uno solo dei genitori, in base al comma 5 dell'articolo 316 del Codice Civile, il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale assume il ruolo di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio. Divieti nei procedimenti riguardanti l'esercizio della responsabilità genitoriale e l'affidamento dei minori. Per quanto riguarda, per quanto concerne i procedimenti riguardanti l'esercizio della responsabilità genitoriale e l'affidamento dei minori, il Decreto Legislativo 149 del 2022, quindi la riforma cartabbia, ha introdotto l'articolo 38 ter delle disposizioni di attuazione al Codice Civile, il quale prevede il divieto di svolgimento delle funzioni di tutore, di curatore speciale, di consulente tecnico d'ufficio o funzioni di assistente sociale, per coloro che nei due anni antecedenti rivestono o hanno rivestito cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private presso le quali sono inseriti i minori o anche per coloro che nei due anni precedenti partecipano alla gestione delle medesime strutture o prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito oppure fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono, che gestiscono appunto le predette strutture. Il secondo comma dell'articolo 38 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile vieta altresì l'assunzione dell'incarico di consulente tecnico e lo svolgimento delle funzioni di assistente sociale a coloro il cui conuge parte dell'Unione Civile convivente o parente entro il quarto grado svolge o ha svolto nei due anni precedenti le predette funzioni. La tutela, concetto e tipi. Ai minori i cui genitori siano morti o per altre cause non siano in grado di esercitare la responsabilità genitoriale sui loro figli nonché agli interdetti giudiziali o legali deve essere immediatamente nominato un tutore. La tutela si configura come un ufficio di diritto privato gratuito ed irrinunciabile diretto alla realizzazione di un interesse pubblico. Alla funzione tutoria sovraintende il giudice tutelare. La tutela si divide in volontaria, legittima, dativa e assistenziale. È volontaria quando la designazione del tutore è compiuta dallo stesso genitore anche se si tratta solo di un'indicazione per il giudice rispetto alla decisione definitiva. È legittima quando mancando la designazione la tutela è affidata a parenti prossimi o a fini del minore cominciando dagli adolescenti. È dativa quando sempre mancando la designazione la tutela è affidata ad altre persone che non siano parenti scelte liberamente dal giudice tutelare. È assistenziale quando è affidata a un ente di assistenza. Ex articolo 354. Nella tutela la dottrina distingue tra atti di ordinaria amministrazione sono atti che il tutore può compiere senza autorizzazione e atti di straordinaria amministrazione sono atti per i quali è richiesta l'autorizzazione del giudice tutelare. In tema di autorizzazione del giudice tutelare la cosiddetta riforma cartabbia ha riformulato l'articolo 374 attribuendo alla competenza del giudice tutelare tutte le ipotesi di autorizzazione per atti di straordinaria amministrazione nell'interesse dell'interdetto. Limite. Gli atti personalissimi quali testamento, donazione, riconoscimento di figlio, matrimonio non possono essere compiuti dal soggetto incapace neppure per il tramite del proprio rappresentante legale. Si tratta di una impossibilità assoluta. La curatela. La volontà dell'inabilitato e del minore emancipato viene integrata dall'intervento di un curatore. La curatela pertanto si distingue dalla tutela perché il curatore non ha funzione di rappresentanza ma di assistenza, cioè non costituisce ma integra la volontà dell'emancipato e dell'inabilitato. L'attività del curatore non viene in rilievo per tutti gli atti ma solo per alcuni di essi. Il curatore, contrariamente al tutore, cura solo interessi di natura patrimoniale. L'ultimo argomento di questa lezione è l'amministrazione di sostegno. È stato introdotto con la legge 6 del 2004 questo istituto dell'amministrazione di sostegno. L'amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nell'impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi uno strumento che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire con il quale si è incapace di provvedere ai propri interessi a causa di infermità anche parziale o temporanea. Può ricorrere al giudice tutelare affinché nomini con decreto un amministratore di sostegno. Possono proporre ricorso verso il decreto di nomina il beneficiario anche se minore interdetto o inabilitato, il coniuge o la persona con esso stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, il tutore o curatore, i responsabili dei servizi sanitari sociali ma anche il pubblico ministero. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la necessaria rappresentazione o l'assistenza dell'amministrazione di sostegno. L'amministratore di sostegno ha l'obbligo di informare tempestivamente degli atti da compiere e il proprio assistito. Sono annullabili su istanza dell'amministratore medesimo, del pubblico ministero, del beneficiario, degli eredio e venti causa di quest'ultimo quali atti? Gli atti dell'amministratore di sostegno in violazione delle disposizioni dettate della legge, gli atti dell'amministratore di sostegno che oltrepassano i limiti fissati dal giudice nel conferimento dell'incarico, gli atti dell'amministratore di sostegno in contrasto con l'interesse del beneficiario, gli atti personalmente compiuti al beneficiario in violazione della legge o delle prescrizioni del giudice.